Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. All'Indore Sabbi, finita la fase a gironi, gli otto giocatori rimasti si affrontano partendo dai quarti di finale in scontri ad eliminazione diretta. Quindi da ora in poi sarà semplice capire quali giocatori rivedremo nei prossimi giorni. Nel video di oggi, la prima partita già decisiva del match dei quarti di finale tra Magnus Carlsen e Wesley So, che quest'anno sembra costantemente in grande forma. Partiamo! Magnus Carlsen con i pezzi bianchi apre la partita con D4 e Wesley So risponde con cavallo in F6, C4, E6, cavallo in C3 e con alfiere in B4 che attacca ed inchiodo il cavallo siamo nella nipso indiana. Carlsen va subito fuori dalle due linee principali giocando il cavallo in F3 e quando arriva il cavallo in F3 ricordiamoci che visto che il bianco non ha ancora giocato E3 è anche possibile che possa portare questo alfiere in fianchetto. In questa posizione il nero ha tre risposte principali che sono B6 che ci riporta nell'indiana di donna, poi abbiamo una posizionale arrocco corto e l'aggressiva C5. Wesley So continuerà con arrocco corto e Carlsen con alfiere in G5 che attacca ed inchioda il cavallo. Adesso che il re nero è al sicuro dietro dal rocco, Wesley spinge dal centro con C5 e qui arriva torre in C1 a proteggere il cavallo e quindi anche la struttura pedonale. C per D4, però naturalmente il bianco ricattura col cavallo, quindi il cavallo cattura in D4 e qui arriva H6. L'alfiere torna indietro in H4 e arriva anche la seconda spinta al centro, D5. C per D5, ora attenzione che il cavallo qui non può catturare perché è inchiodato giustamente, quindi arriva prima G5, l'alfiere torna indietro in G3, ma adesso si nota, aprendo anche il database, che praticamente la ricattura migliore è quella di donna. E infatti Wesley solo ricattura con donna cattura in D5. La donna è al sicuro perché anche l'alfiere C3 è inchiodato, questa volta è inchiodato sul re, e questa donna sta attaccando il pedone in A2. Carlsen continua con E3 e non con A3, ma entrambe queste mosse sono giocate e quindi praticamente lascia il pedone A2 in presa. Wesley solo cattura, non si fa pregare, quindi donna cattura in A2, c'è anche B2 sotto attacco. Quindi il nero è avanti di un pedone, ma Carlsen conosce benissimo questa posizione perché l'ha già giocata lo scorso anno pareggiando contro Ding. Wesley solo invece non l'ha mai giocata, ma sembra di capire che comunque la partita Carlsen-Ding l'abbia ben chiara in mente. Carlsen continua con donna in C2, quindi sviluppa la donna e protegge anche il pedone in B2. E qui siamo ad un momento importante della partita perché il nero deve prendere una decisione su come continuare. Si può naturalmente iniziare a sviluppare il lato di donna, si può anche tentare di centralizzare il cavallo con cavallo in D5, si può cambiare l'alfiere sul cavallo. Wesley So continua con l'alfiere cattura in C3 con scacco, questa è una novità per portare Carlsen fuori dalla preparazione, ma Carlsen ricattura subito in C3. Il cavallo salta in E4, quindi attaccando sia la donna che l'alfiere in G3, la donna si deve spostare e ritorna semplicemente in C2, attacca il cavallo, ma Wesley So prima di spostare il cavallo dà uno scacco. Donna in A5 con scacco, il re si sposta in E2 e praticamente il nero sta meglio del bianco. Wesley So con cavallo cattura in G3 con scacco toglie il bianco anche la coppia degli alfieri, ma attenzione però perché qui praticamente il bianco ricatturando col pedone H apre appunto questa pericolosa colonna H. E questa partita mi ricordo una partita di capa blanca dove non si è mai capito se il grande capa aveva giocato un'apertura orrenda oppure era tutto un piano per aprire la colonna H sul re avversario. Naturalmente qui il pedone va a protetto, quindi Wesley So gioca re in G7 e qui arriva la spinta F4. F4 è la mossa migliore, Karzen era preparato alla novità di Wesley So, alfiere cattura in C3 con scacco, infatti siamo alla mossa 17 e Karzen ha guadagnato tempo sull'orologio. Partendo con 15 minuti ce n'ha adesso più di 16. Siamo arrivati al momento critico della partita perché qui vedete che praticamente il bianco vuole iniziare a smantellare questi due pedoni di fronte al re e di nero non può perdere tempo perché qui bisogna assolutamente mettere in gioco i pezzi sul lato di donna. Wesley So continua con alfiere in D7 prima di giocare il cavallo in C6, lui non vuole praticamente perdere il pedone, quindi vuole anche l'alfiere a proteggere la casa C6, ma non ha previsto quanto è fastidiosa la prossima mossa di Karzen. Perché Karzen gioca B4 che attacca la donna, B4 è un sacrificio di pedone che è una fastidiosissima deviazione. E come mai? Perché praticamente il pedone, se verrà catturato da nero come Wesley So farà, impedirà alla donna di ricatturare in G5, dopo che il bianco naturalmente giocherà F per G5. Ma si può spostare questa donna portandola, per esempio, in D8, casa dalla quale si continua a proteggere G5? In realtà non si può, perché dopo donna in D8, non giocata da Wesley So, arriva donna in C3, mossa fortissima, che tiene sotto scacco a raggi X il re nero. Vedete che ci sono delle scoperte vincenti, quindi con vantaggio sicuro per il bianco. Quindi ritorniamo alla nostra partita, dopo B4, giocata da Karzen, praticamente il nero è costretto a catturare. Donna cattura in B4, ma adesso, dopo che Karzen ha catturato in G5, e qui naturalmente non solo non si può più catturare di donna, ma non conviene proprio catturare, perché vedete che catturare col pedone H apre la pericolosissima colonna H. Andiamo velocemente a vedere, qui c'è sicuramente un vantaggio vincente per il bianco, e quindi ritornando alla nostra partita, non si può catturare di donna, non si può neanche catturare con il pedone H, qui praticamente bisogna lasciar correre, continuare a mettere i pezzi in gioco, e cavallo in C6, sembra sicuramente la mossa migliore, ed il nero è ancora in partita. E' ancora in partita, ma Wesley So invece gioca torre in C8, protetto dall'alfiere, attacca la donna, ma questo è un errore. E' un errore perché Karzen, prima di spostare la donna, gioca G per H6 con scacco, il re si sposta in H8, e siamo arrivati al nostro quizzone. Nostro quizzone perché la domanda per voi è, qual è la migliore continuazione per il bianco? Mettete pure in pausa se volete, e a voi la parola. Ritorniamo alla nostra partita, perché Karzen non ci pensa due volte, e sacrifica la donna sulla torre, donna cattura in C8 con scacco, l'alfiere ricattura, e arriva la torre che ricattura in C8 con scacco, il re si può soltanto spostare in H7, e vedete che praticamente, è vero che non c'è più la donna, ma il nero ha il cavallo inchiodato sulla torre, quindi questo lato di donna rimane bloccato. Karzen continua con il salto del cavallo in F3, e qui arriva F6. Con re in F2 si libera l'alfiere, Wesley Soh dà uno scacco di donna in B2, l'alfiere si porta in E2, e naturalmente, purtroppo per Karzen, pira adesso questo alfiere inchiodato, e qui praticamente Wesley Soh non può aspettare che Karzen raggruppi tutti i suoi pezzi contro il re, e cerca in qualche modo di trovare un veloce controgioco con cavallo e donna. Quindi salta col cavallo in A6, lascia la torre in presa, è un tentativo disperato di trovare un contrattacco, e naturalmente Karzen cattura in A8. Arriva il salto di cavallo in C5, attenzione perché l'alfiere è inchiodato, quindi in realtà non sta difendendo dal salto di cavallo in D3, per questo Karzen porta la torre in D1, quindi a proteggere la casa D3, e il cavallo di Wesley Soh salta in E4 con scacco. Il re si porta in G1, vedete che la donna può catturare l'alfiere, ma giustamente Wesley Soh gioca F5, e ritorniamo indietro di una mossa, perché dopo donna cattura in E2 c'è già un matto forzato. Potete anche mettere in pausa e calcolarlo da soli, io intanto andrò avanti. Quindi per dare il matto forzato si inizia con torre in D7 con scacco, qui ci sono soltanto due possibilità per il nero, quindi o muoversi in G6 o catturare in H6. Andiamo prima a vedere se il re cattura in H6, perché se il re cattura in H6 c'è torre in H8 con scacco, il re si sposterà in G6, il salto di cavallo arriva con scacco, mossa unica, re in G5, torre in G7, scacco matto. Ma ritornando alla nostra torre in D7 con scacco, adesso bisogna anche calcolare questo re in G6. Ma sarà più semplice del previsto, perché dopo re in G6 arriva torre in G8 con scacco, se il re si sposta in F5, G4 protetto dalla torre è già scacco matto. Se il re cattura in H6 ci riportiamo nella linea precedente, e quindi dobbiamo soltanto calcolare cosa succede dopo re in H5. Dopo che il re si è spostato in H5 c'è sempre G4 con scacco, e adesso il re è costretto a catturare in H6, torre in H8 con scacco, il re in G6, adesso arriva il salto del cavallo in H4 con scacco, il re si sposta in G5 e torre in G7 e di nuovo scacco matto. Ritorniamo quindi alla nostra partita, quindi dopo che il re si è spostato in G1 lasciando l'alfiere, Wesley So giustamente non cattura l'alfiere, perché c'è il matto, ma gioca F5, F5 che difende il cavallo chiude anche in qualche maniera questa pericolosissima diagonale chiara. L'alfiere si porta in D3, adesso donna in F2 con scacco, il re di Carson si porta sulla colonna H, re in H1, e adesso donna cattura in E3. Alfiere per cavallo, il pedone F ricattura, oltretutto attaccando il cavallo in F3, Wesley So è riuscito a creare un pedone passato, ma Carson non perde tempo e continua con torre in D7 con scacco, il re si porta in G6, qui arriva torre in G8 con scacco e Wesley So abbandona, perché c'è già il matto forzato sulla scacchiera. Ora qui naturalmente se il re non cattura il pedone e si sposta per esempio in F6, il pedone bianco semplicemente avanza e diventerà donna, e se il re invece cattura in H6, andiamo a vedere che succede, dopo il re cattura in H6, naturalmente non giocata da Wesley So che ha già abbandonato, arriva la mossa tranquilla, cavallo che salta in H4, che anche se non dà scacchi è una mossa che porterà al matto, perché dopo per esempio donne in E1 con scacco, il re si sposta in H2, il pedone cerca di avanzare, ma adesso arriva torre in G6 con scacco, re in H5, torre in H7, scacco matto. Quindi un'altra grandissima partita di Carson, e anche un po' di nuova teoria per noi da studiare nella Nimso indiana, neanche Wesley So è riuscito a fermare Carson, non ci riuscirà neanche nelle successive partite, anzi Carson senza troppi problemi si porterà in semifinale. Spero che questo primo quarto di finale vi sia piaciuto, spero naturalmente che vi iscriverete al canale, non scordate di like al video, e naturalmente ci vediamo domani con un altro quarto dal Lindor e Sabbi. A presto!